Il primo trailer della seconda stagione di Westworld È diretta da Jonathan Nolan, il fratello di Christopher Nolan E secondo me, ragazzi, una tra le 5 migliori serie televisive al mondo Una prima stagione che infatti mi ha fatto impazzire Mi ha fatto impazzire con dei colpi di scena incredibili E se non l'avete vista, ragazzi, andate subito a guardarla Andate subito a guardarla perché secondo me è una serie televisiva A livello di Lost, Stranger Things e Il Trono di Spade Ci metto dentro anche Prison Break e Breaking Bad Davvero tanta roba Quindi sono curioso di vedere questo minuto e mezzo di introduzione alla seconda stagione Facciamolo subito Con volume massimo Questa canzone è bellissima A world where you can be free A world where you can be free But this world is a lie This world deserves to die Because this is your world You've lived by your rules long enough We can save this world We can burn it to the ground And from the ashes of the new world Our world 22 aprile Ragazzi Ragazzi Il miglior trailer tra tutti quelli andati in onda durante il Super Bowl Il miglior trailer Ho visto un minuto e mezzo di pura musica Di pura arte Di pura arte Madonna mia Madonna mia 22 aprile ragazzi Devo aspettare ancora più di due mesi Una cosa fantastica Non ho parole Non ho parole Non ho parole Ovviamente è un trailer che non ci ha detto molto Non ci ha detto molto Ovviamente ci ha introdotto il mondo della seconda stagione Per chi non ha visto la prima non potrà capire Però sì, ci ha introdotto il mondo Diciamo Dove vivremo nella seconda stagione Io sono completamente Sono scioccato e contento allo stesso tempo Perché ho molta fiducia in questa serie Ho molta fiducia in questa serie E soprattutto ho molta fiducia Nella casa di produzione HBO Tra l'altro è uscito E' uscito il teaser trailer di Deadpool 2 Ragazzi Wow Wow Ditemi che cosa ne pensate Di questo primo Assaggio Di Westworld 2 Mettete un like se la mia reaction vi è piaciuta Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Quando uscirà Westworld 2 Tra l'altro Commenterò ogni singolo episodio Il giorno dopo Della sua uscita Ogni singolo episodio Lo commenterò Come sto facendo con Stranger Things Ovviamente saranno recensioni più dettagliate Più dettagliate Queste Stranger Things sono più che altro Fatte così Senza impegno Ecco Non con troppo impegno E niente Quindi iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Nelle prossime reaction Oppure nei prossimi video Ciao ragazzi